Oggi davanti alla Corte d'Assise di Alessandria è iniziato il processo per Giuseppe Aiello, proietto accusato di aver ucciso Alberto Faravelli, portiere d'albergo dell'Hotel Londra. Un'odienza a filtro, quella di oggi, ossia molto breve che è servita soprattutto per stabilire le prossime date del processo. Era il 9 maggio dell'anno scorso quando un passante aveva visto nella hall dell'albergo il corpo di Alberto Faravelli, riverso in una pozza di sangue. L'uomo aveva chiamato i carabinieri che intervenuti sul posto avevano riscontrato come Faravelli fosse stato violentemente colpito con un corpo contundente e probabilmente una statuetta. Giuseppe Aiello, proietto cliente dell'Hotel Londra, era stato fermato dopo poche ore e al termine di un lungo interrogatorio, dopo vari ricordi confusi e tanti silenzi, aveva ammesso di essere stato lui ad uccidere il Faravelli perché ispirato da frequenze negative. Il presunto assassino che si trova in carcere a Biella era stato in cura in una clinica psichiatrica sia a Monza che ad Alessandria e le perizie psichiatriche richieste da difesa e d'accusa avevano concordato per una ridotta capacità di intendere e di volere. Giuseppe Aiello, proietto e difeso dall'avvocato Luca Tommaso Calabro.